Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi Scarpa Rebelle Tech 3 HD. Uno scarpone in cui c'è veramente tantissimo da dire, perciò mettetevi comodi che oggi ne vediamo insieme pregi e difetti e soprattutto tutte le tecnologie che Scarpa è andata a utilizzare su questo modello. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa. Per quanto riguarda la suola di questi Rebelle Tech 3, parliamo di una Vibram Precision Tech Roll Lite con mescola Mega Grip. Per quanto riguarda l'intersuola abbiamo un drop di 6 mm con un'intersuola a doppia densità. Sul lato mai abbiamo una doppia membrana, H-Dry e Polartec Windstop, il tutto per un peso di solo 660 grammi nella taglia 42. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di questi Rebelle Tech 3. Come dicevo una Vibram con tecnologia Precision Tech Roll Lite e mescola Mega Grip. Tutto questo cosa vuol dire? Una mescola pensata apposta per avere un'ottima aderenza su roccia. Vi assicuro che questa scarpa, veramente, quando la andiamo a utilizzare in appoggio su roccia, ha un grip formidabile. Non penso di aver mai trovato uno scarpone d'alpinismo con questo grip. È una suola anche duratura, perché io comunque ci ho fatto tanti chilometri ed è ancora praticamente nuova, e volendo si può anche far risuolare. L'unico neo di questa calzatura è che, avendo questi tasselli pensati per andare bene su roccia, se dovessimo trovare del fango gli scivoleremmo un pochino. Però, veramente, su roccia ha una suola che non avevo mai visto prima. Passando invece all'intersuola, qui troviamo la prima tecnologia interessante di questi nuovi scarponi di scarpa, ovvero il Drop 6. Cosa vuol dire? Che abbiamo un drop di 6 mm su questo scarpone. So che potreste pensare, ma non è così rivoluzionario? Sulle scarpe da trail si vede spesso. Sì, ma sulle scarpe da trail. Negli scarponi d'alpinismo, di solito, il drop è molto alto. Prendiamo anche di drop di 12-15 mm, quindi molto alto. Questo Drop 6 fa sì che riusciamo a camminare, a avere un'ottima rullata, in quegli avvicinamenti molto lunghi. Io ci ho fatto un'escursione in cui ho fatto 4 ore di avvicinamento e gli assicuro che ho camminato con una rullata molto naturale. Quando sono arrivato all'inizio della via non avevo il piede stanco. E soprattutto poi troviamo un'intersuola a due densità, media e bassa densità. Ovvero un'intersuola comunque che offre un ottimo cushioning e anche un'ottima resistenza nel momento in cui andiamo a camminare su rocce appuntite. Quindi veramente un'intersuola studiato molto bene e che ci dà un ottimo supporto nel momento in cui camminiamo per tante ore. All'interno inoltre troviamo un plate in fibra di vetro che va a rendere rigido questo scarpone. Però rigido ma non rigidissimo. Diciamo a metà tra un semirigido e un rigido. Sentiamo comunque che l'intersuola va un pochino a flettersi quindi non è proprio super rigido come magari altri scarponi da alpinismo e questo aiuta molto quando si cammina per tante ore. Infine in questa parte dello scarpone troviamo anche l'inserto semiramponabile. Ho usato solo il rampone anche su roccia. Devo dire che lavora molto molto bene. Davvero utilizzare questi scarponi con rampone è quasi proprio una goduria. Arriviamo alla parte superiore della tomaia iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale che è durissimo veramente. Ci prende a calci una roccia non sentite assolutamente niente. Veramente molto strutturato. Per quanto riguarda la tomaia in sé questo scarpone praticamente è stato costruito partendo da un calzino. Cioè la calza interna che lo va a comporre è la vera tomaia di questo scarpone. La parte esterna fa sì che vada a proteggere il calzino interno. È una tomaia che complice anche le due membrane che troviamo sopra è veramente poco traspirante. Io l'ho utilizzata in delle giornate neanche tanto calde comunque delle temperature sui 15-20 gradi e devo dire di aver sudato veramente tanto. Come dicevo troviamo due membrane. La prima è la membrana Ash Dry. Conosciamo, classica, già vista su altri scarponi di scarpa. Se non la conoscete, ci ho fatto un video apposta e lo lascio qua in alto a destra. La seconda è la Polartec Windstop. Lei è soprattutto pensata per andare a fermare il vento freddo quando siamo in alta quota. Queste due membrane messe insieme fanno sì che questo scarpone sia veramente molto ben isolato dagli agenti esterni. Soprattutto in quei casi in cui dovessimo trovare un vento freddo molto molto forte. In compenso però, come vi dicevo, la traspirabilità è abbastanza compromessa. Però pensate che comunque uno scarpone è da utilizzare ad alta quota. Parlando di tallone, innanzitutto, vabbè, come dicevo, nella parte bassa c'è l'inserto semiramponabile. Nella parte bassa, inoltre, è molto rigido, classico di uno scarpone d'alpinismo, ma va a destrutturarsi pian piano che si sale verso la ghetta fino a rimandare veramente molto molto morbido. Soprattutto poi tutta la parte alta della ghetta che sbuca fuori dal chiusura col velcro è veramente estremamente morbida. È una parte che va un pochino a stringere il nostro polpaccio per far sì che comunque non entri anche l'acqua dalla parte superiore, ma vi assicuro che non dà nessun tipo di fastidio. Quindi comunque un tallone è sicuramente molto ben progettato. Arriviamo alla chiusura di questi ribelli Tech 3, che qui, secondo me, è un po' la nota dolente. Cosa vuol dire? Troviamo tre chiusure. La prima è caratterizzata da una retina che va a proteggere il Quick Lay System. Questa retina, nel mio modello, si va a togliere molto facilmente. Nel senso, mentre cammino, esce dal suo punto in cui va ad ancorarsi e praticamente per il 90% del tempo che ho utilizzato questi scarponi li ho utilizzati con la retina aperta. Quello che è, secondo me, il vero punto dolente è il Quick Lay System. Questo tipo di allacciatura è un'allacciatura elastica. Quindi quando noi andiamo a inserire all'interno il piede e andiamo a camminare soprattutto in punta, in salita, si sente un po' di gioco dal momento in cui noi andiamo a spingere con la punta al momento in cui lo scarpone segue il piede. Diciamo che il piede all'interno balla un pochino. E questo mi ha provocato tante vesciche. Io la prima volta che ho utilizzato questo scarpone vi assicuro sono tornato a casa con tre vesciche su un piede e due sull'altro. Ma non solo io perché mi sono confrontato con altre persone che hanno utilizzato questi Ribelli Tech 3 e hanno avuto lo stesso identico problema. La soluzione è quella di serrare tantissimo questo Quick Lay System e poi di serrare proprio, tirare come se non ci fosse un domani la parte superiore è in velcro. In questo modo si va a ridurre il gioco del piede all'interno e le vesciche non si creano più. Io vi assicuro prima uscita che ho fatto tantissime vesciche, la seconda, la terza e via dicendo non ho avuto neanche una. Quindi questo sistema funziona abbastanza. E visto che ve lo citavo da parte superiore abbiamo la chiusura velcro pensata per tenere fermo il resto della caviglia da parte superiore del piede. Devo dire che lavora bene, è bella lunga, davvero un ottimo velcro. Ho pensato anche per chi ha magari un polpaccio particolarmente grosso. E devo dire che alla fine come allacciatura è veramente molto molto particolare. Però a mio parere, soprattutto sul Quick Lay System, si poteva fare qualcosa di più, soprattutto lato gioco del piede per evitare delle vesciche. Per quanto riguarda la soletta interna, qui troviamo una Ortholite particolare, modello Therm, ovvero una soletta abbastanza alta che va a isolare molto bene il piede dagli agenti atmosferici comunque quando andiamo a camminare su ghiaccio. È una soletta molto particolare, io mi ci sono trovato molto bene soprattutto per quanto riguarda l'isolamento, quindi sì, anche la soletta mi ha convinto. Per quanto riguarda la calzata di questi Ribelle Tech 3, ha una calzata veramente stretta, molto stretta, ma questo fa sì che sia uno scarpone molto preciso. Davvero, quando andiamo su roccia, questa calzata molto stretta, si rivela una precisione nello scarpone senza uguali. Ma dove vi consiglio utilizzare questi Ribelle Tech 3? Allora diciamo che loro amano essere utilizzati per tantissime ore. Quando dobbiamo fare delle uscite alpinistiche con degli avvicinamenti di ore, questi sono perfetti. Ma soprattutto quando dobbiamo fare delle uscite alpinistiche in cui abbiamo misto, quindi magari un po' cammino sul ghiacciaio, un po' su roccia, e soprattutto anche per quelle vie alpinistiche da arrampicata, perché lì sono veramente a proprio agio. Tutto quello che riguarda la roccia, questo scarpone lo ama. Quindi portateli su roccia, vedrete che non sbagliate. A chi li consiglio? Solo pubblico estremamente esperto, veramente. Chi va in montagna da tantissimi anni, chi fa delle vie particolarmente difficili, chi soprattutto riesce a sfruttare bene tutte le sue tecnologie. Non prendeteli se dovete andare a fare una semplice camminata su ghiacciaio, perché lì sarebbero completamente sprecati. Arriviamo infine alle conclusioni per questi ribelli tech 3. Vengono venduti sul sito di Scarpa a 519 euro. Online le si trova già sui 450. Ve li consiglio? Alla fine sì, perché sono comunque molto leggeri, hanno delle tecnologie veramente innovative, sono degli scarponi perfetti per chi va a fare delle vie alpinistiche molto difficili. So che l'allacciatura poteva essere fatta meglio e sinceramente anche io penso su uno scarpone da 400 e passa euro l'allacciatura mi aspettavo qualcosa di più. Però alla fine si può un pochino ovviare a questo problema andando a stringere meglio le altre parti che abbiamo. Quindi alla fine sì, ve lo consiglio, però veramente prendetelo in considerazione solo se andate a fare delle vie alpinistiche estremamente difficili o delle vie d'arrampicata molto lunghe. Detto ciò, io nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per l'averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!